Il maltempo mette in ginocchio l'agricoltura cremonese, raccolti i danneggiati e l'impossibilità di entrare nei campi allagati, come spiega l'agricoltore Maurizio Caligari. Lei dove ha l'azienda? L'azienda è nei comuni di Annicco, Grumello e Soresina. Noi coltiviamo mais, triticale, in questo momento abbiamo la prospettiva di seminare il triticale, quando riusciremo a entrare nei campi, perché effettivamente con tutta l'acqua che è arrivata non riusciamo a fare nessun lavoro. Abbiamo l'80% del prodotto estivo ancora nei campi e conseguentemente non riusciamo neanche a predisporre i terreni per le colture successive, che in prospettiva sono il triticale e quest'anno anche l'orzo. Quindi a questa situazione del fatto che non potete entrare nei campi si aggiunge anche una spesa precedente? Effettivamente è tutto vero, non soltanto le sementi, tutte le varie operazioni culturali. E poi abbiamo un'aspettativa di portare a casa il prodotto perché ci serve, non è che ci serve in quanto lo utilizziamo direttamente all'interno del ciclo produttivo della nostra impresa agricola. La nostra azienda ha un biogas, quindi produce energia elettrica. Per quanto riguarda la stima dei danni, avete già fatto una stima? È ancora presto fare la stima perché lo potremo fare quando avremo ultimato la raccolta. Però considerando anche le difficoltà che abbiamo avuto al momento della semina, con tutte le piogge che ci sono state nel periodo primaveridie, potrei dire un 30%, quantomeno, o 40% del prodotto che dovevamo raccogliere.